Per conoscere quali siano le responsabilità penali di Stefano Costa, il 36enne di Campesi arrestato ieri per rapina aggravata, porto abusivo di armi, tentata estorsione e sequestro di persona, bisognerà attendere il corso della giustizia. Sicuramente più brevi, si preannunciano invece i tempi per capire quali saranno le conseguenze dell'arresto di uno dei candidati del Movimento 5 Stelle di Bassano alle prossime elezioni comunali. Per i seguaci di Grillo che della fedina immacolata hanno fatto una bandiera, si tratta di un colpo tremendo di cui già nei commenti a caldo di ieri sera tra gli attivisti si possono solo ipotizzare le proporzioni. Certo il Movimento 5 Stelle ha subito annunciato l'esclusione di Costa dalla lista, ma la notizia passata rapidamente dalle pagine di cronaca a quelle di politica non è di quelle che si assorbono in poco tempo. Anche perché le candidature dei 5 Stelle a Bassano erano state tutt'altro che in dolore, con la contrapposizione di due gruppi per l'utilizzo del simbolo. Queste immagini si riferiscono al 12 aprile durante le presentazioni dei candidati, c'è anche Costa e la contestazione di chi si reputava scippato dal simbolo. Il Movimento 5 Stelle del Grappa. Di sicuro per ora rimangono solo le accuse gravissime mossi a Stefano Costa. Ha tirato un imprenditore del Padovano per un incontro di lavoro, l'avrebbe poi minacciato con un coltello, legato, imbavagliato, trasportato in un luogo isolato, chiedendogli 200.000 euro per pagare il proprio riscatto. Per rendere più incisiva la minaccia, Costa e un complice si sarebbero anche dichiarati affiliati all'Andrangheta. Ma, liberato su impegno di pagamento, l'imprenditore aveva subito denunciato il fatto ai carabinieri. Grazie. Grazie.